Salve a tutti! Continuiamo oggi lo studio sulla progettazione degli induttori di potenza con una nuova parte, che riguarderà la misurazione delle perdite reali di un induttore. Infatti, dopo aver completato le due fasi precedenti che hanno visto la realizzazione del modello analitico e del modello su LTSpice, ciò che si ci chiede è se le perdite che vengono calcolate con questi due modelli siano poi in effetti le perdite reali dell'induttore, perché se così non fosse, questi modelli non risulterebbero di alcuna utilità. Quindi l'unico modo per stabilire se le perdite misurate corrispondono alle perdite reali e andare a fare delle misurazioni sperimentali. Ora, esistono dei macchinari, esistono degli strumenti che riescono a misurare le perdite degli induttori. Però ovviamente sono molto costose e se lo può permettere chi lavora in campo di ricerca a livello industriale e quindi per cercare di misurare queste perdite c'è bisogno di qualche piccolo stratagemma. E l'idea che mi è venuta in mente di realizzare è la seguente. Supponiamo di avere un circuito LCR, quindi un circuito composto da un condensatore, un induttore e una resistenza messi in serie. E supponiamo di voler vedere come cambia la tensione ai capi del condensatore dopo che questo circuito è stato soggetto ad un evento di tipo impulsivo. Supponiamo il primo caso in cui la resistenza presente nel circuito è uguale a zero, quindi in pratica abbiamo solo il condensatore e l'induttore. Quello che succede è che dopo il fenomeno di tipo impulsivo la tensione ai capi del condensatore inizierà a variare fra un valore di più a e meno a che dipende dall'intensità del fenomeno impulsivo e avrà una variazione di tipo sinusoidale con frequenza che dipende dai valori del condensatore e dell'induttore e dell'induttore. E questa oscillazione continuerà all'infinito in modo costante in quanto non c'è nessun elemento del circuito in quanto la resistenza è uguale a zero che va a dissipare l'energia accumulata dai due componenti reattivi. Adesso invece analizziamo il secondo caso ovvero il caso in cui la resistenza è maggiore di zero. E quello che succede questa volta è che dopo il fenomeno di tipo impulsivo il circuito inizierà ad oscillare ma a causa della presenza dell'elemento resistivo che va a dissipare una certa quantità di energia queste oscillazioni alla fine si smorseranno fino ad arrivare a zero. Ora la domanda che ci poniamo è conoscendo il valore di v1 e v2 che si riferiscono a due tensioni di picco successive ai capi del condensatore. È possibile in qualche modo risalire al valore della resistenza R? La risposta a questa domanda è ovviamente sì in quanto questo tipo di fenomeno è già ampiamente conosciuto quando si studiano i circuiti di tipo LCR e va sotto il nome di decremento logaritmico a cui adesso faremo qualche cenno per ricavare le equazioni che ci interessano. Si definisce decremento logaritmico indicato con la lettera delta la differenza fra il logaritmo naturale di v1 e il logaritmo naturale di v2 con v1 maggiore di v2 che come abbiamo appena visto si riferiscono ai valori di tensione di due picchi successivi. Inoltre il decremento logaritmico è anche uguale ad a per delta t dove delta t si riferisce alla differenza temporale di due picchi successivi. Invece a è uguale a R diviso due volte il valore dell'induttanza. Mettendo insieme queste tre relazioni si riesce a ricavare una ulteriore relazione ovvero dove L il valore dell'induttanza è pari alla resistenza moltiplicato delta t diviso due volte il valore del decremento logaritmico. Ora noi il valore dell'induttanza già lo conosciamo perché corrisponde all'induttore che stiamo andando a testare mentre per quando riguarda delta t e il decremento logaritmico possiamo andarli a ricavare effettuando delle misure con l'oscilloscopio. Quindi quello che abbiamo è che la nostra unica incognita è la resistenza R. E quindi andando ad invertire questa relazione possiamo ricavare il valore di R partendo dalla conoscenza di questi valori. Ed è proprio questo il metodo che voglio utilizzare per risalire alle perdite dell'induttore. Adesso diamo uno sguardo al circuito elettrico che ho intenzione di realizzare per capire meglio il suo funzionamento. Ecco qui il circuito elettrico. Quindi qui abbiamo l'alimentazione di ingresso a 12 volt. Qui lo stadio di LDO che mantiene su questo nodo una tensione costante di 12 volt anche in questo caso ma è fissa quindi anche aumentando la tensione di alimentazione su questo punto ci sarà sempre la 12 volt che serve principalmente per alimentare lo stato di driver che ovviamente comanda il MOS di potenza e che viene gestito attraverso un generatore di segnale ovvero un generatore di onda quadra a frequenza variabile e duty variabile. Mentre la parte del circuito di nostro interesse è questa qui. Quindi com'è che funziona? In pratica con questo generatore di segnale andrò a comandare l'accensione e lo spegnimento del MOS ma saranno dei segnali con un bassissimo duty. Quindi il MOS starà acceso per pochissimo tempo in modo da simulare un evento impulsivo. E che cos'è che succede? Quando il MOS si accende va ad effettuare un cortocircuito fra questo nodo del circuito e la massa. Quindi da qui passerà un forte picco di corrente attraverso l'induttore. Quando invece il MOS si spegne la corrente che circolava nell'induttore non può passare istantaneamente a zero. Quindi quell'energia accumulata inizierà a risuonare in questa maglia LC. Ovviamente come si può vedere non vi è nessuna resistenza perché la resistenza è intrinseca all'induttore. E se noi posizioniamo la massa dell'oscilloscopio su questo nodo e la sonda su quest'altro quello che in pratica dovremmo vedere è la tensione smorzata che abbiamo teorizzato. E quindi andando ad effettuare una misurazione su due picchi successivi riusciremo a risalire alla resistenza intrinseca di questo induttore. Ovviamente in questo circuito ci sono moltissimi altri fattori di perdita ovvero il fatto che il condensatore non è ideale quindi anche lui presenterà una resistenza interna. Ci sono dei cavi di collegamento quindi anche questi presenteranno una resistenza e inoltre il loop creato con questa maglia andrà a generare un campo magnetico variabile che a sua volta si traduce in perdite per emissione. Quindi per avvicinarsi il più possibile al caso ideale bisogna fare in modo nello sbroglio di fare questa maglia con aria più piccola possibile e di utilizzare dei condensatori in polipropilene. Ecco qui come avverrà lo sbroglio sullo schedino e questa qui sarà la parte relativa alla maglia LC quindi come si può vedere è molto molto piccola e soprattutto per quando riguarda la capacità ho deciso di mettere un connettore in modo che possa essere intercambiabile e soprattutto che dà la possibilità di metterne diverse in parallelo che consente di avvicinarsi il più possibile al caso di condensatore ideale. Ora quindi andrò a costruire la schedina e poi nel prossimo video andrò a fare un test sull'induttore che abbiamo già dimensionato con i modelli precedenti in modo da verificare se i risultati delle misurazioni saranno uguali a quelli dei modelli. Molto bene quindi per adesso è tutto, alla prossima!